Arrivano all'Aquila start-up e imprese innovative, sono 17 in totale che sbarcheranno in città. Dopo l'avviso pubblicato nei mesi scorsi dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, si insederanno nel Tecnopolo d'Abruzzo col quattro tecnologi alla prima edizione del programma di accelerazione Open Innovation Intelligence 2024, promosso dal Comune dell'Aquila nell'ambito delle attività della Casa delle Tecnologie Emergenti, CTE Sicura, rivolta a imprese start-up e PMI, innovative, piccole e medie imprese. L'iniziativa è stata illustrata alla stampa dal Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e dal Direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti, Federico Fioriti. Offre l'opportunità di accedere a tecnologie e specifici servizi per lo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche legate alla sicurezza e sostenibilità dell'ambiente, del costruito e delle città, al supporto delle comunità locali in ambiente digitale, con particolare attenzione al tema della cyber security. Siamo stati vincitori, eravamo fra le cinque città selezionate, abbiamo dato una struttura a questo organismo, abbiamo avviato le attività e oggi iniziano a vedersi frutti perché il lavoro che sta facendo il Direttore insieme alla squadra del Comune che si occupa di questo argomento specifico dimostra la capacità di attrarre non soltanto nuovi investimenti ma anche nuove intelligenze nella città dell'Aquila. Qualche giorno fa abbiamo presentato un grande investimento come quello di Comal da 16 milioni di euro, oggi presentiamo invece prodotti un po' più di nicchia ma messo tutti insieme dalla cifra di una città in cui il tessuto economico accompagna il percorso di rilancio dal punto di vista edilizio, urbanistico e sociale. Sono totalmente 17 imprese innovative, 8 parteciperanno ad un percorso di accelerazione sull'applicazione delle tecnologie che sviluppano alla città dell'Aquila, questo percorso durerà sei mesi e poi alla fine ognuna di queste produrrà un prodotto che verrà messo a disposizione della città, le altre invece avranno la possibilità di usufruire di servizi sempre della casa delle tecnologie che sono delle commodities tipo gli spazi nel tecnopolo e tutto il sistema relazionale che stiamo creando con la casa delle tecnologie con lo scopo anche loro di sviluppare proposte e soluzioni applicabili alla città dell'Aquila.